I bagnini tornino a fare i bagnini e non facciano i ristoratori. I comportamenti illegali devono essere sanzionati. È la denuncia della Confcommercio che ha presentato un esposto al comandante della Polizia Municipale Giorgio Fuligno e al comune di Fano per sollecitare provvedimenti urgenti. La petizione firmata da una trentina di ristoratori mette in luce le criticità che apportano sia le attività illegali di somministrazione di cibi e bevandi e quindi la ristorazione abusiva, sia le feste organizzate sempre più di frequente negli stabilimenti balneari. Il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti, affiancato dal presidente Fanese Francesco Mezzottero e dal segretario dei pubblici servizi Marco Arzeni, chiede un aumento dei controlli, la modifica del regolamento comunale troppo permissivo e che la commissione di vigilanza turni ad occuparsi degli eventi all'aperto. Negli stabilimenti balneari l'attività dei bar dovrebbe essere un'attività secondaria rispetto all'attività prevalente che è quella di bagnino, in tali casi invece che fare il bar gastronomico si fa ristorazione a tutto tondo, contro ogni autorizzazione amministrativa e contro anche le disposizioni in materia igienico-sanitaria. Si fanno attività di pubblico spettacolo, non rispettando quelle che sono la legislazione vigente in materia di pubblico spettacolo, non si rispettano gli orari, per cui abbiamo molte lamentere anche da parte dei turisti che in alcune serate, insomma, orari fino alle 3, alle 4 di mattina, musica. Il permissivismo ha rovinato il paese, ha proseguito Varotti. Questa situazione crea un danno economico a chi invece svolge attività nel rispetto della legge e quindi con le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi. Per questo, precisa, chiediamo al sindaco Seri di agire in modo concreto perché noi non lo accettiamo più. Peraltro gli stessi ristoratori già nel 2013 qui a Fano avevano manifestato pubblicamente questo disagio e la riduzione di quasi il 50% dei ricavi nel periodo estivo. Proprio questa mattina mi ha fermato un albergatore di Fano minacciando la chiusura dell'albergo perché davanti al suo albergo storico, alla notte fino alle 3, alle 4 del mattino, un chiosco in spiaggia continua a fare senza alcun controllo musica ed è un albergo storico ed è un albergatore storico di Fano che ci dice questo. Quindi bisogna che l'amministrazione corre ai ripari anche perché questa situazione non è più veramente accettabile. C'è un'esigenza di legalità e la legalità parte dal basso, non parte dalle cose altre.